Nomi di qualità sarà un'edizione particolarmente partecipata, quasi 100 autori, prevalente il tema ambientale. Del resto è stato il primo premio in Italia a parlare di ambiente senza fanatismo. È il premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Maiella che quest'anno festeggerà la 26esima edizione. L'appuntamento è per sabato 15 luglio alle ore 20. Come sempre, abbatteggio lo scenario della cerimonia di premiazione quando saranno svelati i nomi dei vincitori. Condurrà la serata la collega Gigliola Edmondo. Tre sezioni, narrativa edita, saggistica edita e poesia. Verranno assegnati importanti riconoscimenti, tra cui il premio alla carriera al giornalista Angelo Figorilli. Il presidente del premio, Antonio Di Marco. Nomi di altissimo profilo direi, di altissimo lineaggio, quali le novità di questa edizione? Ma intanto dopo i primi 25 anni festeggiati l'anno scorso, da quest'anno noi abbiamo colto anche l'occasione di arrivare a case editrici ulteriori, nuove, rispetto al panorama degli anni precedenti. E direi con autori di primissimo piano, che tra l'altro si sono già organizzati per arrivare nel borgo di Abbatteggio per il sabato 15 di questo mese. E abbiamo anche, soprattutto quest'anno, questa novità, non di poco conto, che è quella di aver voluto fortemente la presenza anche del presidente Mattoscio a presidere la giuria di primo Maiella, che se appare come un fatto, come dire, naturale, di collaborazioni che comunque c'è sempre stato dalla sua persona, adesso questa volta invece gli abbiamo affidato proprio il ruolo di presidente della giuria. E poi abbiamo la presenza di Galasso, che reciterà i brani del premio Maiella, ma abbiamo anche la medaglia del presidente del Senato, che verrà consegnata a un concorrente particolarmente meritevole, così come sei premi speciali che saranno assegnati nel corso della serata. Dunque, edizione numero 26 all'insegna della valorizzazione della letteratura ambientale, in sintesi, la cultura come volano. Traccerà un percorso ulteriore, che sarà quello dell'obiettivo che ci siamo imposti 26 anni fa, e cioè di fare della cultura un elemento di sostegno all'ambiente inteso come territorio.